Stiamo passeggiando con la star degli ultimi giorni, Amalur, la mamma della quale abbiamo partecipato al riscatto. Amalur ora è concentratissima sui suoi cuceri e stiamo tornando da loro. Amalur comunque non perde occasione per vedere una carezza e si sta dimostrando molto affettuosa con l'essere umano. Amalur ha passato due anni praticamente da randagia attorno al posto dove l'abbiamo presa. Da quando ha partorito i cuccioli si è fatta avvicinare di più e è molto commuovente vedere l'istinto materno di questa criatura con i suoi cuccioli. Quando ne abbiamo preso uno per fare delle foto lei lo guardava sempre attenta dove stanno i cuccioli, come stanno i cuccioli. Amalur è un simbolo delle mamme galghe, lei è stata mamma in libertà e non una fattrice obbligata a riprodursi per l'umano. Amalur è la nostra stella di questo viaggio, è la nostra testimonia l'ufficiale di questo viaggio. Amalur una volta svezzati i cuccioli cercherà casa in Italia e che vorremmo tantissimo adottarla. Ora stiamo per portarla dai suoi cuccioli. Facciamo vedere un incontro tutti i cucciolini. entriamo nella zona protetta dei cuccioli. Hai già capito? Bambina dove sei? E la famiglia ora è riunita, è ora di mangiare la pappa. Con l'occasione vi diciamo anche che uno dei cuccioli è cieco. Questo qua bianchino abbiamo scoperto che è cieco. Non vede niente. Comunque ha la vitalità dei cuccioli di tutti i suoi fratelli. a riprodursi.